La chiesa e il convento di Sant'Agostino di Cassano in Calabria Citra, l'ultimo lavoro di Leonardo Alario, edito da La Mongolfiera. Il libro è stato presentato a Morano Calabro. Un saggio sulla chiesa e il convento di Sant'Agostino, che era proprio degli agostiniali, però degli agostiniali di colorito, adesso colorito, ma i documenti parlano di colorito. Il libro è importante, credo che sia importante, non tanto per quello che ho scritto io, ma piuttosto per i documenti, perché i documenti potranno servire agli studiosi, ai giovani che vogliono interessarsi della propria terra, della propria storia, della propria identità culturale. Ma anche alla gente comune, a coloro i quali vogliono riappropriarsi della memoria di un territorio che appartiene, che abitano, sperando che il territorio sia abitato da loro. Perché la molla che mi ha spinto a scrivere questo libro, perché io mi interesso di altre cose, ho notato che i giovani, ma anche i meno giovani, vivono nel paese ma non sono del paese. Conoscono poco del paese, quindi naturalmente non lo amano, non sanno nulla, quindi non lo amano. Invece bisogna ritornare ad amare il paese, perché il paese riguarda la nostra storia, la nostra storia che è delle generazioni future, ma che è nostra perché noi siamo quello che le generazioni future hanno voluto che fossimo. Forse ingosciamente hanno voluto che fossimo. Allora, secondo me questo libro potrebbe essere l'occasione per discuterne anche nelle scuole. È una sua nuova ricerca, molto approfondita, che illumina un pezzo di storia dei coloretani poco conosciuta, che è appunto il convento di Sant'Agostino a Cassano. Questo ordine antico è nato nella metà del Cinquecento, ma ha avuto vita breve perché è stato soppresso alla metà del Settecento. Nonostante queste vicissitudini di carattere sociale e religioso, è quello che ha dato alla nostra zona una tale quantità di opere d'arte da rimanere impressionati. Basti pensare alle statue di Pietro Bernini, all'altare del Fanzago, eccetera. Quindi nella sua breve vita è stato molto costruttivo, almeno dal punto di vista artistico. Il libro di Leonardo Alario sicuramente ha affrontato l'aspetto generale dell'ordine a Cassano, quindi ci illumina con la regola del convento, con com'era il convento nel corso del Seicento e qual'era la vita di questi frati. Sindaco, oggi si presenta a Morano Calabro, la nuova fatica letteraria documentale del professor Alario e c'è un motivo importante per cui si presenta prima a Morano e poi a Cassano? Sì, c'è un motivo importante perché il libro inizia con il monastero di Colorito, quello che noi conosciamo come Colloreto, per cui siamo moderatamente soddisfatti di questa scelta del professor Alario e soprattutto siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo nel percorso culturale che ci vede protagonisti nel territorio del Pollino. Ritengo che siano queste le credenziali migliori per poter fare cultura nel territorio. Grazie. Grazie.